Cose da sapere sui pannelli performance 6 SunPower. Hanno una potenza... Ciao a tutti, premesso che ho rispetto del lavoro degli altri e qualsiasi azienda ha diritto di operare sul mercato, ci mancherebbe altro. Vero il fatto che SunPower è questa azienda californiana che ha il top del fotovoltaico come prestazioni ormai da molti anni. C'è un gioco di parole che voglio condividere con tutti. Nell'economia di un impianto fotovoltaico efficiente, che abbia un giusto rapporto qualità prezzo. Quanto pesa l'efficienza del pannello fotovoltaico? Mi spiego meglio. Ormai tutti i pannelli fotovoltaici, ovviamente anche quelli cinesi, quelli che distribuisce la mia organizzazione, hanno un'efficienza che supera il 21%. Significa che fatta a 100% la luce che batte sui waffer di silicio che compongono il nostro modulo pannello fotovoltaico, il 21% di questa luce viene trasformata in energia elettrica utile per le nostre necessità di energia elettrica pulita, per il nostro edificio, sia esso un'abitazione piuttosto che un campanello industriale, qualsiasi cosa. Ora, che cos'è che merita la maggiore attenzione? Ribadisco, io conosco la qualità top di SunPower, conosco il fatto che diano molti anni di garanzia sul prodotto e sulla durata delle prestazioni. Però oggi diciamo che anche il prodotto più economico, il cosiddetto modulo fotovoltaico da cantiere, come li chiamo io, ti dà 15 anni di garanzia sul prodotto e 25 ormai sono diventati 30 sulle prestazioni. Significa che se un modulo fotovoltaico nuovo produce 100, entro i prossimi 30 anni il produttore mi garantisce che produrrà almeno l'85% di quello che faceva all'inizio. Quindi se dopo 30 anni invece che 100 mi fa 85 è comunque un ottimo risultato in termini di degrado programmato della qualità del prodotto. Ora, qual è il cuore di un impianto fotovoltaico? Il modulo fotovoltaico o l'inverter con gli ottimizzatori? Beh, direi sicuramente la seconda parte, nel senso che l'inverter, come sai, è l'apparecchio elettroico che trasforma l'energia a corrente continua accumulata nel campo fotovoltaico nell'insieme dei vari pannelli che costituiscono il campo solare e la trasforma in energia alternata utile per l'impianto elettrico del tuo locale da alimentare. Quindi, caro amico, ovviamente questo questo è il mio punto di vista opinabile, però se devi investire qualcosina per dare una qualità migliorativa al tuo impianto fotovoltaico ti consiglio di investire i soldini in un inverter di qualità superiore e soprattutto ti consiglio di utilizzare gli ottimizzatori. Degli ottimizzatori non ti parlo in questo video, se vuoi saperne di più ho già fatto degli altri video, però sarò lieto di fare un video specifico per rispondere alla tua curiosità. Quindi, ribadisco il concetto, saluto l'azienda che utilizza i moduli fotovoltaici della californiana SunPower, ottimo prodotto. Dico soltanto che se SunPower costa 10, un modulo fotovoltaico con delle prestazioni e un rapporto qualità prezzo superiore costa un terzo. Quindi vale la pena investire così tanti soldi sul pannello fotovoltaico? Secondo me no, secondo me le alternative dei grandi produttori cinesi ormai hanno raggiunto dei livelli di efficienza che sono praticamente quasi alla pari di SunPower ma costano un terzo e nella vita di tutti i giorni sinceramente non vedo la necessità di scegliere un brand soltanto perché è più fancy, soltanto perché è più cool per il suo nome e cognome. Dimmi se sei d'accordo e soprattutto se non sei d'accordo. Un saluto a tutti da Marco Faiad, esperto nel fotovoltaico. Ciao ragazzi e buona serata.